Una notte di preghiera ed adorazione per la pace. Nella serata del mercoledì delle Ceneri, che dà inizio alla Quaresima, la Chiesa di San Bartolomeo a Pistoia ha aperto le proprie porte per pregare e chiedere lo stop alla guerra in Ucraina. È l'inizio della Quaresima, ma è anche l'inizio di un periodo molto difficile. Alla pandemia si è aggiunta questo pericolo di guerra, questa guerra tremenda in Ucraina. Perciò stasera vogliamo pregare soprattutto per la pace, per la pace in Ucraina, perché si possa trovare un accordo per evitare il peggio. In tanti hanno risposto all'appello nel giorno in cui Papa Francesco ha invitato tutti i fedeli anche al digiuno. Io penso che con la preghiera, una preghiera vera che nasce dalla fede e con il digiuno si possono fermare anche le guerre. Le Ceneri sono un segno di umiltà, ha detto Don Giordano Favillini, correttore dell'Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia. A margine della liturgia le guerre nascono dall'orgoglio. Dall'orgoglio nazionale, dalla sopraffazione e dal volere imporsi, mentre le Ceneri ci richiamano all'umiltà, alla giustizia, a cercare il bene comune, a rimanere appunto nella consapevolezza di quello che siamo. Perciò le Ceneri che siano davvero un segno forte per questo tempo che ha bisogno di persone umili, di persone generose, di persone che cercano sempre il bene. E con i mezzi anche del bene, perché la guerra è sempre un mezzo sbagliato. Il fine sta nei mezzi. Se si usa la guerra anche il fine sarà un fine di ingiustizia e di violenza. Perciò dobbiamo usare mezzi giusti, mezzi pacifici per poter raggiungere buoni fini. Grazie a tutti.